bentornati amici andiamo avanti con gli algoritmi di tafti l'algoritmo del beneficio 1 cogliersi in un attivatore di avversione non accettazione 2 svegliarsi mi vedo e vedo la realtà 3 porsi la domanda quale potrebbe essere il vantaggio il beneficio 4 se la risposta viene trovata a consentire e trarre il beneficio 5 se non c'è risposta provate comunque ad assecondare la situazione ogni evento o situazione qualunque si siano portano sempre in sé non solo il negativo ma anche il positivo la sceneggiatura non aspira a recar danno perché recar danno è energicamente costoso la sceneggiatura si muove sempre lungo il percorso della minore esistenza ma voi resistete per riflesso automatico perché avete un carattere fastidioso o una tendenza al negativismo o l'abitudine dell'autodifesa o un'alta considerazione di voi stessi o quanto meno perché le cose non vanno come vorreste voi di conseguenza come al solito finite per rovinare la vita voi stessi e agli altri peraltro la sceneggiatura funziona a favore del vostro fine ammesso che lo impostiate quando impostate la realtà la sceneggiatura si allinea esattamente in conformità la vostra impostazione anche se sembra che non sia così ma voi continuate insistere affinché tutto sia assolutamente conforme ai vostri piani e ciò facendo ostacolate l'attuazione di quanto concepito includete nella vostra vita quotidiana un semplice principio trovare il beneficio in ogni cosa trarre letteralmente vantaggio da qualsiasi situazione fastidiosa scovare benefici in ogni evento che susciti una vostra seppur minima avversione ponetevi questo fine trarre beneficio ma affinché ciò funzioni dovrete svegliarvi per tempo e convogliare la vostra attenzione sul centro gli attivatori qui sono per lo più esterni qualcuno vi dice qualcosa fa qualcosa o qualcosa accade o viene fatto intorno a voi tutte situazioni che suscitano la vostra non accettazione da una lieve insoddisfazione un forte sentimento di rabbia emozioni attivanti possono essere tra l'altro un senso di irritazione sconforto ansia aggressività paura per fare la scelta giusta si deve solo trovare un attimo per riflettere e chiedersi quale beneficio si potrebbe trarre da una situazione come questa dopodiché non bisogna opporre resistenza alla sceneggiatura ma cercare di seguirla seguire letteralmente il consiglio che viene dato ascoltare l'opinione che viene espressa a consentire accettare qualcosa che prima avreste rifiutato per partito preso o rispetto a cui avreste aperto un fronte di scontro il risultato è che venite trasferiti su una pellicola alternativa su quel film dove al contrario tutto gioca a vostro favore perché voi al momento giusto vi siete fermati e avete scelto proprio questo stesso beneficio è tutto molto semplice si ottiene quello che si sceglie nella realtà vige una legge mutabile la legge dice se ci si lascia guidare dal principio del beneficio nella vita si produrranno sempre meno eventi che causano danno bene amici per questo algoritmo è tutto la prossima volta leggeremo l'algoritmo per seguire ciao